Oggi risponderò ad uno di questi tre quesiti. C'è vita dopo la morte? Come hanno costruito le piramidi? È possibile bere gratis usando solo la forza di gravità? Non è misteri misteriosi, io sono Nicola Selenu e questo è Trucchi da Bar, l'unico programma che ti spiega come fregare il prossimo nel tuo pub di fiducia, ma per una buona causa. Bere gratis! Ciao Nicola, Daniele, piacere. Piacere Daniele, vedo che ti piace la birra. Sì. Che ne dici se facciamo una scommessa e chi la vince si fa offrire da bere dall'alto? Ok, ci sto. Ricchiere, una carta in questo tuo pub, è 10 centesimi. Ok, hai tre tentativi. La moneta nel bicchiere, senza toccare il bicchiere, senza toccare la sigaretta. E anche senza toccare la business card. In realtà, devi solo provare. Hai tre tentativi, pur già tenere uno. Ricapitolando, devi fare entrare la moneta nel bicchiere, ma non puoi toccare né la sigaretta, né il bicchiere e neanche la carta. Hai ancora due tentativi. E ancora una volta, il vero problema è mettere in ordine tutto quanto. Ma ho preso la mano, hai visto? Se resta solo un tentativo. E' una sfida complicata, questa. E' un tecnologico. Procediamo. Mi dispiace. Guarda la mossa, eh. La farò solo una volta. Bene. Hai visto tu. Salute.